Fere, aiuto! Aiuto! Sto affagando nei fatti! Ma come hai fatto a non vedere le sabbie mobili? Ci sei caduto dentro, Steph! Ti prego, salvami! Cosa possiamo fare? Non so come salvarti, Steph! Aspetta, ci provo così! Ok? Pensi di farcela? Non lo so, Fere! Ce la stai facendo? Ce l'ho fatta! Ok, ok! Sei tutto sporco, Steph, mamma mia! Fere, sono salvo, sono salvo! Sei contenta? Sono stato bravo? Più a meno, Steph! Vai a darti una sciacquata, per favore! Ma l'hai visto come sei conciato? Eh, Fere! Vai nell'acqua, lavati, Steph! Ho paura di rifinire nel fango! No, tranquillo, vai, Steph! Non so quale fango, non so quale terra, ormai! Questo mondo è un casino, però... Io in doccia! Ok? Ok, ok, sta funzionando! Stai tornando uno Steph normale! Guardami! Oh, finalmente! Bello, limpido, bello, limpido! Come è stato, Steph, quasi morire nelle sabbie mobili? Fere una sensazione terribile! È brutto! Ti senti risucchiato tutto il tempo, pieno, pieno, scendi, 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 scendi! Ed è vero, se ti agiti è peggio! Quindi ricordati, se ti succede non ti agitare! Devi stare calma! Urlo però, eh! No, no, no! Urlare sì! Non è agitarsi, urlare! Non devi urlare, non devi urlare! Comunque, Fere, il mondo ormai è pieno ovunque di sabbie mobili di tutti i tipi! Quello lì in particolare era Fangofangorus, ok? Ah, hanno anche i nomi, Steph! Hanno anche i nomi, ovviamente, Fere! Sei esperto oggi di sabbie mobili! Ah, vabbè, ma quante cose sai, Steph? Ce ne sono in miniera, vicino all'acqua, vicino alla sabbia! No! Sì, Fere, sono preoccupato, dovresti essere anche tu, dovresti smettere di ridere! Sì, molto, molto! Infatti, il tuo unico modo per salvarti è questo bastone! Questo? Sì, perché tu devi tastare... Che mi hai dato prima, infatti! Tu devi tastare così il terreno per vedere se è tutto ok! Ah, ok! Quindi, fallo sempre come se fosse un vecchietto che ha bisogno di un bastoncino per andare avanti! Ok! Perché se sbaglia e metti il piano, viene il posto sbagliato e la fine! Perché stai parlando strano, Steph? Perché sono un esperto di sabbie mobili! Comunque, guarda, Steph! Mi hai ignorato! Guarda! Fere, lo so! È un posto strano questo! Te l'ho detto! Allora, andiamo a tastare i terreni, su! Fere, non è divertente! Tu lo stai prendendo come un gioco, ma non lo è! Quello è già un posto brutto! Qual è? È lì, è lì, è lì, è un posto brutto! È un posto, secondo me! Stai attenta, stai attenta! Dai, voglio trovare la sabbia che è proprio una sabbia mobile! Perché tu hai trovato il fango e voglio trovare la sabbia! Dovremo andare nel deserto per quella! Allora, seguimi! Vieni con me, vieni con me! Se vuoi avere le brezza delle sabbie mobili, dovresti andare dall'altro lato! Il problema è qui, Fere! Se tu hai il coraggio, fallo! Ma ci sono sabbie mobili anche sotto acqua, mi sa! Eh sì! Infatti, ti dicevo che era un po' strano qui! Galleggia, Fere! Galleggio, galleggio! Sei sicura? Ok, ok, sto... Estorando il terreno... Fere! Eh... Ti rendi conto? Siamo già incastrati! Sì, ma... Uh! Ok, ok, ok! Allora, scusa, Steph, io ho provato a testa al terreno, ma non cambia nulla, quindi come si dovrebbe capire? Col tasto destro! Eh, e quindi? Vedi che fa un rumore strano, fa un splash! Questo vuol dire che non è un terreno solido! Ma non rispondi, Steph, sono sorda oggi! Ah! Sì, capisci! Ok, comunque, Fere, ne devi uscire, piano piano ti sta risucchiando! Non è vero! Ho una corda, Steph! Vai! Ok, devi tenere premuto sinistro! Non è molto brava! No, no, non funziona! Aspetta, aspetta! La ritiro, Steph! Ok? È una pessima Indiana Jones, eh! È una pessima Indiana Jones! Sta funzionando, secondo te? Fere, tieni premuto sinistro senza guardare una foglia! Tieni premuto, tieni premuto! Sinistro premuto! Esatto, così! Vedi? Ok, ok, ok! Sto dondolando, Steph! Sì, guarda! Com'è stato? Bello! Questa è una delle sabbie mobili più scarsi, in assoluto! No, allora, c'è da dire che è difficile manovrare questa corda, è molto complicato, eh! Guarda! Non è che io so scar- Hai visto? Degli stivali bellissimi! Eh? A che servono? Servono a riuscire all'incirca ad avere a che fare con questi postacci, vedi? Ok! Se io vado molto di space, all'incirca riesco a cavarmela parecchio! Come scendo, Steph? Aiuto! Dei premere destro, mi pare! Ok! Però, se punta a capo, ovviamente! No, galleggia! Ti conviene nuotare e andare dritta! Esatto, così mi pulisco pure! Andiamo da un'altra parte, Steph! Aspetta che mi metto salvagente, va che qua! E quindi dicevi che queste sono anche semplici, quindi ci sono di difficoltà differenti! Eh sì, 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 queste sono molto gentili, ce ne sono alcune che sono... Ma come ho fatto a mancarlo? Queste secondo te sono fabbie mobili, Steph? Non lo so! Eh sì, eh sì, eh sì! Guarda, gli ho dato un colpo e hanno subito fatto le bollicine! Fede! E come facciamo? Mi serve una mano? Ok! Siamo in un posto terribile, Steph! Ma dai, ma perché non ce la faccio più? Mi sta venendo un nervoso incredibile, me ne voglio andare! Ok, eccomi! Ma come facciamo? Guardate! Io non devo provere spazio né nulla perché galleggio con salvagente! Bellissimo! Questo mi permette ovviamente di galleggiare anche nelle sabbie mobili e di non morire affogato nelle sabbie mobili perché può succedere anche quello! Non lo so, Fede, non so quanto siano terribili queste sabbie mobili! Guarda, guarda, vedi che fanno le bollicine? Io vado! Vai! Le voglio affrontare! Queste sembrano brutte, eh? Sì! Vero? Molto, hanno proprio il colore brutto, Steph! Però, guarda! Voglio prendere quell'albero! Ok! Ma si sta divertendo a fare Indiana Jones, sta qui! Ce l'ho fatta, Steph! Fede, non è un gioco! Ma sei? Mi vedi? Guarda qua, che saltello con i miei stivali! Con i miei stivali è tutto più semplice, eh! Fatta, sto a destra per mollarla! Cosa? Fede! Che ti è successo? Questo è terribile! Cosa? Guarda, mi sta risucchiendo tantissimo! Ah! Ah! Ma queste sono forti! Non è acqua! Queste sono forti, Steph! A te che ci voglia andare via? Fere, sto affogando! No, Steph! Fere! Che fere? Steph! Fere! Ti vedo solo i capelli! Fere! Accrappati all'albero, Steph! Non vedo! Io non vedo più nulla! Io ti vedo con la testa fuori! È finita! Di fronte a te! Di fronte a te! No, sta morendo! È finita! Sta morendo! È una tristina! Ti sto guardando morire, Steph! Non posso fare nulla! Mi devo arrendere alle sabbie mobili! Io te l'avevo detto che non era un gioco, Fere! Te l'avevo detto! Torna qui, Steph! Ma tu vuoi sempre sperimentare le cose per la caraggione! Era giusto testarle! Almeno adesso sappiamo che queste verde scuro sono molto pericolose, Steph! Arrivo! Quindi quelle verde scure non ci devi più! Adesso le affronti anche tu! No, non ci entro! Sì! No! Sì! Sì! Sì, sì, sì! Voglio vedere se Indiana Jones riesce a salvarsi! Aspetta che arrivi e ti ci butti anche tu! No, grazie, Steph! Vai, vai! Voglio vedere! Ma che tu mi hai dato anche delle tue cose! Queste sono le tue robacce! Riprendi! Cioè, rendiamoci conto! Mi ruba pure gli oggetti! Uh, lì sotto, lì sotto, lì sotto! Ok! Meno male, meno male! Ho ripreso tutto? Sì, 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 sì! Fere? Fere? Ah! Mi stavo incastrando lì! Porca miseria, che paura! Allora, questa corda è quasi rossa, quindi la butto! Questa la gente sta molto meglio! Ma... Sei impazzita? Ma non si va così velocemente, Steph! Tira veloce! Tira veloce, sei già a metà busto incastrato! Guarda come neanche la corda ci riesce a tirarti fuori! Guarda! E come faccio se non ci riesce? C'è rotta la corda, Steph! Questo! L'hai mancato, devi ritirarlo! Come si ritira? Premi destro, tipo lo resetta! Esatto! Mira bene, Fere! Ma non puoi mirare il cielo! No, sto mirando la pianta, Steph! Io lo vedo che passa attraverso la pianta, scusami, eh! Aspetta, così? Davvero? Miri un albero, tipo alla tua sinistra! Alla tua sinistra! Nella legna! Nella legna! Sì, vai! Oh! Tieni premuto a sinistro! Di nuovo! Fortissimo! Ok! Sto provando! Ok, un pochino ce la stai facendo, ma è davvero difficile uscire da lì, Fere! No, ce la farò! Guarda qui! È davvero difficile! Io mangio! Sono pronta! Niam, 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 niam! Steph, aiuto! Che c'è? Dammi qualcosa! Io non uscirò mai da qui! Come faccio? È quello che cerca... Ma secondo me la posso acchiappare? Smettila! L'ho vista la corda, Steph! Ho fatto una sciomenta! Mi stai disturbando! Steph, mi hai fatto togliere il coso! Togliti! Fere, ho fatto una sciomenta! Steph! Mi stai uccidendo! Mi ha ucciso! Mi ha ucciso! Sei imbecille! Sei sempre imbecille tu! Guarda, mi hai ucciso, Steph! Mi hai ucciso! Guardatela! Adesso morirò! Ah 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 ah! Finalmente! Aspetta, devo girarmi dalla tua parte per guardarti negli occhi mentre muoio! Tieni! Cioè, ce la stavo facendo! Ti sto salvando! Ma davvero funziona? Ma sto morendo, Steph! Devi essere veloce! Non ero abbastanza in alto! No, peccato! Adesso sto morendo io! Porca miseria! Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi salvi! Ok! Non era una buona idea tornare in quelle sabbia mobili, Steph! Le hai già provate! Non ci tornare! No, queste sono quelle un po' più scarse! Però non mica le ho fatte apposta! Dove cavolo posso andare da qui? Magari riesco a mirare lì! Ok! Ti prego! Steph! Dimmi! C'è un mob strano? Cioè? Cioè, girati da quella parte! Guarda quanto sei sporco! Che schifo! Secondo me è una sabbia mobile che si muove! Ma dove sei? Che cos'è? Sono vicino a te! Ok! Sto tornando! Mi vedi? Sto nuotando nell'acqua! Ok! E se guardi, alla nostra destra c'è un mob strano! Ti giuro, eh! Ma lo voglio vedere! È andato sott'acqua! Vieni! Vieni! Vieni qua! Vieni! E sai! È un postaccio! E muoviti! Ci fosse un punto dove puoi camminare sereno in questo posto! È andato sott'acqua! Sott'acqua! Oh mio Dio, oh mio Dio! Mi vuole inseguire, Steph! Ma che stai a dire? Aiuto! Beh, ma ce li ha... Mi stai seguendo? No! Perché sono morto! Ovviamente non ho nulla, Steph! Oh cavolo! Ho perso tutti i miei oggetti! Dove sono? Calmo! Calmo! Io ti picchio e tu ti fai picchiare! È morto? Sì, sì, tranquilla alla fine! Steph, non ho nulla! Eh, penso di aver preso tutto io! Ah, ok! Sì! Ok! Arrivederci! No, andiamo da qualche parte! Voglio la terraferma, Steph! Vuota via! Esatto! Vieni di qui, vieni di qui! Mi sto stancando di queste sabbie mobili! Basta! Eh, vedi, vedi! All'inizio ti stavi divertendo! Adesso... Eh, queste... Cioè, vabbè! A parte che sei solo tu che mi hai fatto morire! Posso dirti una cosa? Baccando la corda, quindi, cioè... Quelle in miniera, sono peggio! Allora, andiamo in miniera, Steph! Ma perché ti ridiverti? Allora, non... E poi quante cavolo di corde avevi? È molte! Ma tu stai male! Prova a toccare col bastoncino, se secondo te quello è qualcosa di preoccupante, no? Perché io... Non ci tengo, grazie, no! Va bene così! Non eri tanto coraggiosa, andiamo in miniera! No, ma ci si vede già che è qualcosa di strano! Non c'è bisogno di mettere bastoncini perché ho paura che appena mia vicino e mi resucchia, Steph, sta roba, eh! Che fai? No? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sto prendendo danno! Oh mio Dio, sono cattivissime queste! Ma sei pazzo! Senza neanche affogare, ti fanno danno perché credo siano tipo delle larve, Fede! Oh mio Dio! Questa fa schifo molto! Ma fa schifissimo! Questa fa schifissimo! Poi ne abbiamo... Attenta, 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 attenta! E dicevo che ne abbiamo trovato altre in questa zona perché vedi che ovviamente abbiamo già messo le torce! Guarda! Eh, lo so! Questo è cemento! Sì, è cemento! Ma questo è cemento, Fede! Vai tu! Vado! Velocissima, Steph! Riesci a uscirne? No! Ma che cavolo ti ha grappito di me? Eh, ci stavo provando! Mi porti via! Fede? Ce la faccio? Ce la fai? Dovrei... Dai! Ok! Ok, ce l'ho fatta! Quindi il cemento è cementoso ma comunque è accettabile! Sì, 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 sì! Comunque riesci a uscirne! No! Ok, qua è tutto a posto! Fede che può ridere con quel bastoncino! Lo so! Attenta! Di fronte, secondo me, le vedi? Ne vedo! Di diverso colore! Sì! Sì, sì, sì! Questo è qualcosa di brutto! Ma faccia passare comunque! È piccinissima! No, no! So che sembra! Ma questa non lo è! Guarda! Ah, no! Ah, ci sta! Ci sta! O forse i nostri stivali sono abbastanza forti! Sì, secondo me sì! Prova le vedi! No! Allora! Mi piace! Dove fare io! Aspetta! Già mi sono incastrata qui al lato! Che sembra? No! 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 Ok! No, sì, sì! Aspetta, aspetta, aspetta! Mi sta un minimo rallentando! Però fa proprio schifo! Penso che siano sabbie mobili molto, molto, molto schifosi! Cioè che non fanno poi tutto steffetto! Ho trovato gli originali! Aspetta, devo cercare un attimino, Steph, di uscire da qui! Che fastidio! Bene! Eh, aspetta, zitto, un attimo! Accidenti a te! Mi stai guardando! Sto cercando di uscire da queste! Mi sa che il mio salvagente riesce a salvarmi! Quindi vedi che non vado più sotto di così? Sì! E quindi prendo e me ne vado! Ci sta! Che schifo, Steph! Comunque ci dovresti entrare anche tu una volta! Cioè... No! Me lo devi! Fa troppo schifo! Non voglio stare nelle larve! Cioè, finché sto sabbie mobili, si, Steph! Ma no! Non riesco più a saltare di sopra! Che faccio anch'io! Bene, è un problema! Ok, ce l'ho fatta! Perché Steph è un brazzo troppo! Ho dei blocchi prima che ho scavato! E faccio così! Poi faccio così! Poi faccio così! E poi faccio così! Smetti! Non ci vado nelle larve, Steph! Basta! Non gioco più con te! Fa molto danno il bastone! Non gioco più con te! Basta! Mi sono rotta le scatole! Basta! No, non torno lì! Non torno, Steph!